Ero pericolosa, forse è per questo tutti si sono liberati di me. Ah, sì, sì. Ah, sì, sì. Io non voglio andare bene a scuola, vuole parte di questa fase è così difficile da comprendere. La madre mi ha rilasciato nelle mani di un uomo che mi odia profondamente. L'uomo che mi ha strappato i soldi. Non ho amici. Non mi ha rilasciato nelle mani di un uomo che mi ha rilasciato, vuole parte di un uomo che mi ha rilasciato, vuole parte di un uomo che mi ha rilasciato. Non mi ha rilasciato. Non mi ha rilasciato nelle mani di un uomo che mi ha rilasciato. Non mi ha rilasciato, vuole parte di un uomo che mi ha rilasciato. Grazie.